Per Maraviniere e Nicola Carraro, oggi un giorno davvero speciale. 14 anni fa, l'esuberante conduttrice di Domenica Inn e il produttore cinematografico si sono detti sì nella chiesa sconsacrata di Santa Maria del Tempolo a Caracalla, con un matrimonio celebrato da Walter Veltroni, che allora era sindaco di Roma. Oggi Nicola ricorda i 14 anni più sei di fidanzamento trascorsi accanto alla sua Mara. Vent'anni di grande felicità, risate, spensieratezza, qualche problema da risolvere, ma sempre uniti e alleati più che mai. Maria e Nicola hanno deciso di convolare di nuovo a Giuste Nozze per rinnovare le promesse di amore eterno che si sono fatti il 28 giugno 2006. Il post che Nicola ha pubblicato sul suo profilo Instagram ripercorre fotograficamente i momenti più belli del loro matrimonio, che è stato celebrato alla presenza degli amici e delle persone che amano la coppia e che hanno idealmente benedetto il loro amore. Sono passati 14 anni più sei di fidanzamento, vent'anni che stiamo insieme, mi sembra ieri quando ti ho incontrata da Giorgio e la mia vita da quel momento è cambiata. Buon anniversario amor mio, ha scritto Nicola Carraro a commento della composizione fotografica. Anche Zia Mara non è stata da meno e ha postato pressoché contemporaneamente al marito sul proprio profilo Instagram uno scatto del matrimonio con Carraro in cui trapela tutta la gioia e la felicità degli sposi. Buon anniversario amore mio, sembra ieri invece sono passati 14 anni. Ti amo amore grande della mia vita. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.